Il re della tavola torna sul suo trono. Dopo un anno di stop imposto dalla pandemia, la fiera del tartufo bianco di Acqualagna torna con la sua 56esima edizione. Si parte domenica 24 ottobre per poi gustare il pregiato tubero anche il 30 e 31 ottobre, nonché l'1, 6, 7, 13 e 14 novembre. Stand e ristoranti pronti ad apparecchiare la tavola assieme al contributo ai cooking show di chef d'eccellenza nazionali come Moreno Cedroni, Alessandro Negrini, Luca Montersino, Antonella Ricci, Vino de Succar e Giorgio Barchiesi in arte giorgione. E ci sarà pure la simpatia del volto storico di Striscia la Notizia Enzo Iacchetti ad esibirsi in uno spettacolo con il pubblico allo scopo di vendere il suo Non è un libro, ovvero un'opera letteraria autoprodotta i cui proventi verranno devoluti alla Croce Rossa italiana per l'acquisto di un'autoambulanza. Insomma, tanti ingredienti cucinati al punto giusto per valorizzare quell'eccellenza marchigiana che da decenni ha reso Acqualagna un borgo noto a livello internazionale. Il 2020 è stato un anno molto impegnativo per tutte le comunità ma noi comunque avevamo fatto un'iniziativa dal titolo Fieri del Tartufo. Torniamo alla grande nel 2021 con questa fiera, la 56esima fiera nazionale del Tartufo, rinnovata, con una piazza nuova ancora più accogliente per i visitatori, con uno stand dedicato alla ristorazione, con un'area dedicata ai cooking, con chef stellati. E tanti altri appuntamenti importanti che caratterizzano ormai Acqualagna da anni con il tocco di eleganza e di importanza che ha Acqualagna. Acqualagna è capitale del Tartufo, questo già da tanti anni. Tanti visitatori, le richieste stanno arrivando ormai da settimane al nostro ufficio turistico dove molte agenzie di viaggio ci stanno contattando, quindi questo significa sicuramente un numero notevole di presenze. Voglio rassicurare tutti che abbiamo messo in atto un'organizzazione imponente per ciò che riguarda la normativa Covid, abbiamo 60 persone impegnate giornalmente proprio per il controllo, per la facilità d'accesso eccetera, ma si arriverà in Acqualagna in sicurezza, si può arrivare, serve il Green Pass ma verrà controllato solo ai visitatori all'interno, non a tutti, quindi si può comunque accedere liberamente, questo è importante. I nostri ristoratori, i nostri commercianti sono in fibrillazione perché dopo questo anno di stop non vedono l'ora di ripartire alla grande come già sta accadendo da mesi in Acqualagna perché abbiamo un notevole aumento dei flussi turistici in tutti i weekend grazie ai visitatori che vengono da tutta Italia a gustare il nostro prelibato tartufo.